Un Artemio Franchi così incantevole si fa fatica a ricordare. Uno scenario da favola che ricopre dal primo pomeriggio di ieri la splendida Firenze e nonostante i disagi e gli imprevisti del momento la squadra si è trasferita allo stadio di atletica per continuare i test fisici e dedicare la mattinata al lavoro intermittente. Al termine dell'allenamento per i viola è arrivato anche il rompete le righe così i ragazzi di Sinisa Mihailovic torneranno in campo martedì 28 per riprendere la marcia e ripartire carichi contro il Bologna dell'ex tecnico Malesani. Detacherei. Grazie a tutti Grazie a tutti